Buongiorno, vorrei condividere con voi questo studio sulla materia oscura, un viaggio attraverso i misteri del nostro universo. Fino ai primi anni del Novecento, si pensava che tutto quello che noi riuscivamo a vedere dell'universo fosse sostanzialmente tutto quello che c'era da vedere. È solo negli anni Trento del Novecento che Fritz Zwicky, un astronomo, studiando ammassi di galassie, si accorge che i movimenti, la velocità con cui si muovono queste galassie ha qualche anomalia. Purtroppo gli studi di Fritz Zwicky non vengono presi in grande considerazione, sia perché i suoi strumenti non erano forse adeguati, sia perché era un tipo molto particolare e non andava molto d'accordo con i suoi colleghi. Bisogna aspettare quindi negli anni Settanta, quando Vera Rubin e Kent Ford fanno studi molto più dettagliati sulla velocità di rotazione delle stelle intorno alla propria galassia. Loro utilizzarono il sistema degli spostamenti delle righe spettrali per misurare la velocità delle stelle e si accorgono che qualcosa non torna. A loro sembra che le galassie dovrebbero avere molta più massa di quella che riusciamo a vedere. Ma cerchiamo di capire meglio qual è il ragionamento che hanno fatto Rubin e Ford. Questa è un'equazione semplificata che ipotizza delle orbite sferiche e non ellittiche, ma comunque è un'ottima approssimazione per i nostri scopi. Questa rappresenta la velocità con cui orbita, ad esempio, un pianeta intorno al Sole. M è la massa del Sole, G è la costante di gravitazione universale, R è la distanza dal Sole. Allora, se la massa del Sole è molto alta, deve essere alta la velocità con cui un pianeta ruota, per non cadere sul Sole. Ma man mano che ci allontaniamo, invece, siccome R è il denominatore, man mano che ci allontaniamo, la velocità di rotazione deve diminuire. Questo è il motivo per cui Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole, deve ruotare a una velocità molto maggiore di quella, ad esempio, di Nettuno, che è il pianeta più distante dal Sole. Quello che trovarono, quello che si aspettavano di trovare Vera Rubin e Ken Ford era questo, cioè che man mano che ci allontaniamo dal centro della galassia, la velocità di rotazione delle stelle diminuisce. Invece trovarono questo. Allontanandosi dal centro, la velocità delle stelle si muovono molto più veloce di quello che loro avevano calcolato utilizzando una formula più complessa, ma diciamo la formula precedente. Graficamente, qui vediamo la velocità di rotazione nell'asse verticale, mentre in orizzontale abbiamo la distanza dal centro della galassia. Quello che loro avevano calcolato è che, da una certa distanza in avanti, la velocità doveva diminuire più o meno come 1 su radice di R. Invece loro misurarono questo, una velocità più o meno costante, man mano che ci si allontanava dal centro della galassia. Quindi c'è una discrepanza notevole tra la teoria e le misure sperimentali. Questa discrepanza può essere giustificata solo ammettendo che la massa che abbiamo visto nella formula precedente fosse molto più grande. Quindi le stelle lontane orbitano troppo velocemente. A questa velocità dovrebbero semplicemente disperdersi nel cosmo, perché la massa che noi immaginiamo di una galassia guardando la sua luminosità non è sufficiente a tenerle attaccate. Quindi è come se ci fosse più massa di quella che noi possiamo vedere. Vera Rubin e Kenford calcolavano che noi possiamo vedere, pensate, solamente il 15% della massa di una galassia. Il restante 85% è dovuto a qualcosa di cui loro non sapevano e hanno chiamato materia oscura, oscura appunto perché non era visibile attraverso la luce o onde elettromagnetiche. Qualcuno ha proposto, in alternativa all'esistenza della materia oscura, delle modifiche alle nostre teorie gravitazionali di Newton e Einstein, le cosiddette Monde, Modified Newtonian Dynamics. Però in realtà tutt'oggi queste teorie non sono riuscite a spiegare ancora compiutamente il fenomeno. Dopo gli studi di Vera Rubin e Kenford, la comunità scientifica ha cercato ulteriori prove. di questa massa dovuta alla materia oscura. Una di queste prove è stata trovata, ad esempio, nelle lenti gravitazionali. Qui nella foto vediamo un ammasso di galassie e una galassia molto, molto più lontana, posta dietro a questa galassia, che noi vediamo deformata. E l'immagine di questa galassia viene individuata in più punti. Questo perché? Perché Einstein ci ha spiegato già nel 1915, con la teoria della relatività generale, che le masse incurvano la luce, cioè i campi gravitazionali incurvano la luce. Qui vediamo la luce di una galassia, questa evidenziata in blu, situata dietro a questo ammasso che noi vediamo davanti, e la luce che giunge fino a noi viene deformata da questo enorme campo gravitazionale. La luce giunge fino a noi distorta e moltiplicata. Analizzando queste distorsioni, gli scienziati sono in grado di risalire alla distribuzione della massa che ha causato queste deformazioni e ancora una volta dai calcoli si vede che la massa visibile da sola non può rendere conto di queste deformazioni. Questa è un'immagine tridimensionale di come dovrebbe essere distribuita questa massa oscura all'interno di una porzione di universo, ottenuta appunto attraverso questi calcoli di lensing gravitazionale. Un'ulteriore prova viene dal cosiddetto Ballet Cluster. Bisogna premettere che alcuni scienziati ritenevano che la materia oscura fosse da ricercare nei gas e nelle polveri interstellari. Cioè sostenevano che non esiste nessuna materia oscura diversa da quella che conosciamo, semplicemente c'è una distribuzione di gas, prevalentemente idrogeno, dispersa nelle galassie che se sommate insieme potrebbero dar conto di questa massa che noi attribuiamo alla materia oscura. Vediamo però che cosa hanno scoperto studiando il Ballet Cluster. Qui vediamo due ammassi di galassie, questi evidenziati in blu, che si sono attraversati. Le galassie si attraversano praticamente senza scontrarsi perché gli spazi vuoti sono enormi, ma i gas e le polveri invece, che qui sono stati evidenziati in rosa, rallentano perché tra loro si può avere una forma di attrito, quindi due gas attraversando si rallentano, in qualche modo sono rimasti indietro rispetto alle loro galassie che invece si sono poste da parte. Cosa abbiamo quindi? Abbiamo due ammassi di galassie privati del loro gas e polveri intergalattiche, interstellari. Allora, analizzando l'effetto lente gravitazionale in questi ammassi privati di gas e polveri, cosa si scopre? Che ancora una volta l'ensi gravitazionale deve essere generato da una massa che noi non vediamo. Quindi si può dire che questa materia oscura non può essere dovuta ai gas e polveri. Ulteriori prove vengono dallo studio della radiazione cosmica di fondo. Sappiamo che quando l'universo aveva circa 380.000 anni si formano i primi atomi, un processo che viene chiamato ricombinazione. È solo in quel momento che l'universo diventa trasparente ai fotoni di luce, perché fino a quel momento l'universo è stato un plasma di particelle cariche e le particelle cariche non si lasciano attraversare dalla luce. L'universo era luminoso, nel senso che era pieno di fotoni, ma opaco, perché la luce non riusciva a propagarsi. È una sorta di nebbia densa. Quando l'universo invece ha 380.000 anni la temperatura è sufficientemente bassa per consentire agli atomi di formarsi. Quindi gli elettroni vengono catturati dai nuclei atomici che sono positivi, parliamo sostanzialmente sempre solo di idrogeno o forse di elio. Quindi si formano gli atomi che sono neutri. La luce si può propagare. E i fotoni da allora hanno continuato a viaggiare per oltre 13 miliardi di anni. L'universo ha 13,7 miliardi di anni. perdendo via via energia e quindi aumentando la loro lunghezza d'onda. Il satellite Planck, ma prima di Planck ci sono stati studi del satellite COBE e del satellite WMAP, hanno disegnato una mappa dettagliata di questa radiazione cosmica di fondo. Peraltro scoperta in un modo un po' rocambolesco quasi per caso da due ingegneri dei laboratori bell americani. Hanno preso pure il premio Nobel per una scoperta fortunosa. Dalla analisi di questa mappa, ah qua la mappa la vediamo un ovale, ma in realtà questo rappresenta tutto il cielo. È una sfera, è una proiezione di una sfera su un piano e diventa questa ellisse. Però questo è proprio tutto il cielo, una sfera, diciamo, intorno alla nostra Terra. Da questa immagine si trovano delle anisotropie, cioè delle piccole differenze di densità e temperatura diverse. Analizzando queste anisotropie gli scienziati sono in grado di avere informazioni sulla struttura dell'universo, sulla formazione delle stelle, sulla quantità di materia ordinaria e oscura che erano presenti quando l'universo aveva 380 mila anni. Qui, ancora una volta, da questi studi, che sono estremamente complicati, cioè ci sono fisici che passano la loro vita studiando questa immagine, emerge ancora una volta che solamente il 15% di tutta la materia presente nel cosmo è materia ordinaria. Qui vediamo un ingrandimento di questa immagine che è meravigliosa, è una miniera d'oro di informazioni ed è una fotografia, la fotografia più vecchia in assoluto del nostro universo. Non potremmo mai avere una fotografia più vecchia di questa perché, come vi dicevo, prima di allora i fotoni non si propagavano. Successivamente, con l'avvento dei supercalcolatori, è stato possibile effettuare anche delle simulazioni al computer. La più famosa è questa, è il Millennium Run o Millennium Simulation. È una simulazione a n corpi, cioè che utilizza miliardi e miliardi di corpi massivi della distribuzione di galassie e materia oscura su larga scala nell'universo. Ha utilizzato, pensate, 12.000 microprocessori. Un computer singolo avrebbe impiegato più di 300 anni a fare tutti i calcoli necessari per effettuare questa simulazione. quindi servono veramente dei supercalcolatori. Che cosa emerge? Se nella simulazione non si inserisce la materia oscura, semplicemente la simulazione non dà origine a galassie e a stelle. O meglio, dà origine alle galassie ma su una scala temporale molto più lunga della vita del nostro universo. Quindi richiederebbero centinaia di miliardi di anni per arrivare all'universo che conosciamo oggi. Se invece si inserisce la materia oscura all'interno della simulazione nelle percentuali trovate da Rubin e Ford, quello che si trova è una struttura spugnosa, una sorta di impalcatura, di ragnatela, di enormi filamenti, filamenti enormi che hanno dimensioni di milioni o miliardi di anni luce su cui poi si aggrega la materia ordinaria formando le stelle e le galassie. Ecco, questo è un ingrandimento di queste immagini dove risultano ben visibili questi filamenti. A questo punto possiamo tracciare un identikit della materia oscura perché abbiamo dimostrato che siamo ragionevolmente sicuri che esista, ma vediamo come deve essere. Interagisce la materia oscura con la materia ordinaria solo attraverso la gravità. Sappiamo che in natura ci sono quattro forze fondamentali che sono la gravitazionale, l'elettromagnetica, la nucleare debole e la nucleare forte. Quella gravitazionale è di gran lunga ma parliamo di milioni e miliardi di volte più piccola delle altre forze in natura. Quindi la materia oscura interagisce solo attraverso la gravità che ripete una forza debolissima. Pensate ad esempio con una calamita potete sollevare un ferretto di metallo questo ferretto è attratto da tutta la massa della Terra ma la calamita vince su tutta la massa della Terra questo per dimostrare quanto è più forte la forza elettromagnetica rispetto alla gravità non deve essere elettricamente carica perché se fosse carica la materia oscura interagirebbe con la luce cioè con le onde elettromagnetiche e quindi noi in qualche modo riusciremo a vederla se non nello spettro visibile della luce la riusciremo a vedere attraverso altre frequenze AGX o gamma eccetera deve essere molto stabile nel tempo cioè non deve decadere in altri tipi di materia perché deve avere almeno 13,7 miliardi di anni perché sappiamo che era già lì ai tempi della ricombinazione quindi questo lo sappiamo dalla radiazione cosmica di fondo un'ulteriore proprietà della materia oscura è che deve essere stata fredda fin dall'origine dell'universo fredda vuol dire non troppo energetica non troppo veloce questo perché una materia oscura calda non avrebbe dato origine a quella struttura filamentosa su cui poi ci sarebbero nate le galassie vediamo adesso quali sono i principali candidati per la materia oscura inizialmente in molti hanno pensato ai neutrini i neutrini sono particelle velocissime viaggiano quasi alla velocità della luce e hanno una massa piccolissima non sappiamo ancora bene la massa esatta di un neutrino ma c'è un limite massimo di sopra del quale non può andare comunque massa piccolissima sono emesse in grande quantità anche dalle stelle nelle reazioni nucleari eccetera interagiscono molto debolmente con la materia e attraversano con buona pace del ministro Gelmini la terra senza interagire sono state però scartate perché sono risultate troppo poco numerose e troppo calde quindi inizialmente si era pensato ai neutrini ma poi sono state scartate altri hanno individuato un candidato per la materia oscura negli assioni che sono particelle ipotizzate negli anni 80 per risolvere alcuni problemi teorici della cromodinamica quantistica cioè la teoria sui quark che descrive il legame tra i quark all'interno delle particelle elementari gli assioni però non sono mai stati rilevati fino ad oggi si è pensato anche ai buchi neri primordiali si ritiene infatti che all'origine dell'universo si potrebbero essere creati numerosi buchi neri intermedi diciamo così con masse di circa 30 masse solari sappiamo che i buchi neri supermassicci al centro delle galassie hanno masse di milioni di masse solari mentre i buchi neri dovuti a supernove hanno masse di una decina di masse solari ecco questi sono buchi neri intermedi gli interferometri gravitazionali che hanno scoperto le onde gravitazionali nel 2015 onde gravitazionali già previste da Einstein ben 100 anni prima gli interferometri potrebbero dirci in futuro se ne esistono il numero sufficiente per giustificare la materia oscura cioè gli interferometri sono con le orecchie puntate nel cosmo se rilevano onde gravitazionali generate da scontri fra buchi neri primordiali loro sono in grado di capire in base alla frequenza con cui rilevano questi scontri sono in grado di capire quanti sono questi buchi neri e quindi se sono il numero sufficiente per giustificare la materia oscura al momento questa non è comunque l'ipotesi più accreditata quella più accreditata è l'esistenza di particelle cosiddette WIMP dall'inglese Weakly Interacting Massive Particles cioè si pensa che debbano esistere delle particelle con masse comprese tra dieci e mille masse protoniche che non cariche appunto perché vi ho detto prima che interagiscono solo con la gravità e quindi che interagiscono pochissimo con la materia ordinaria le migliori candidate sono loro e si parla ad esempio del neutralino che è una particella non rilevata ma prevista dalle teorie della supersimmetria vedremo a questo punto dobbiamo andare a cercare questa materia oscura e ci sono tre strade diverse la prima è quella del rilevamento indiretto cioè siccome si ipotizza che le WIMP interagendo tra loro potrebbero generare dei raggi gamma un po' come fa materia e antimateria quando si scontano fra di loro si annichiliscono e generano raggi gamma si pensa che le WIMP si comportino allo stesso modo abbiamo dei rilevatori che orbitano sui satelliti rilevatori fermi AMS che però non sono stati in grado di rilevare questi raggi gamma perché nel cosmo c'è un rumore di fondo nella radiazione gamma molto intenso e quindi è difficile discriminare i raggi gamma dovuti a disintegrazione di WIMP da quelli dovuti ad altri fenomeni si può pensare di produrre la materia oscura è quello che cercano di fare ad esempio nei grandi acceleratori perché collisioni altamente energetiche di materia ordinaria potrebbero generare delle particelle WIMP sappiamo ci ha insegnato sempre il grande Einstein che energia e massa sono equivalenti per cui se noi facciamo scontrare dei protoni ad altissima energia possiamo creare delle particelle con massa elevata dal nulla in sostanza trasformiamo l'energia cinetica di questi protoni in materia che ha massa ma proprio potreste dire sì ma anche se si creano delle WIMP come facciamo poi a rilevarle beh è relativamente semplice perché dai rilevatori di particelle ci sono degli strumenti che vanno ad analizzare qual è la massa delle particelle create se noi troviamo della massa mancante perché abbiamo dall'energia in gioco abbiamo un equivalente di una certa quantità di massa e troviamo particelle che invece hanno una quantità di massa minore possiamo dire che la massa mancante è quella della WIMP al momento però questo filone di ricerca non ha ancora portato a nulla la terza strada è quella del rilevamento diretto cioè siccome si pensa che un flusso di centomila particelle WIMP ogni secondo attraverso ogni centimetro quadrato del nostro corpo queste particelle sono il numero sufficiente per creare una qualche interazione con un nucleo atomico cioè è vero che gli atomi in realtà sono praticamente vuoti se noi immaginiamo un nucleo atomico come una palla al centro di un campo da calcio gli elettroni possono essere visti come delle mosche che ruotano nei quartieri intorno allo stadio quindi in realtà l'atomo è praticamente quasi tutto vuoto e siccome la WIMP non interagisce con la nuvola elettronica perché non è elettricamente carica l'unico modo con cui una WIMP può interagire con la materia è proprio andare a sbattere contro un nucleo che è un evento molto poco probabile ma comunque c'è una probabilità finita che questo accada e quindi si pensa di utilizzare questo fenomeno per rilevare le WIMP al momento due esperimenti importanti di rilevamento diretto sono l'esperimento Edelweiss e l'esperimento Xenon1T l'Edelweiss che si trova in Francia usa cristalli di germanio purissimo raffreddati quasi allo zero assoluto cioè a 20 millikelvin meno 273 gradi circa che è la temperatura lo zero assoluto è la temperatura più bassa a cui si può arrivare l'urto di una WIMP allora perché temperature così basse perché quasi allo zero assoluto il cristallo di germanio è praticamente fermo normalmente c'è una vibrazione termica dei cristalli a 20 millikelvin è quasi fermo l'urto di una WIMP con un nucleo atomico dovrebbe generare una vibrazione nel reticolo quindi una vibrazione nel reticolo che si propaga agli atomi vicino e che è misurabile come un piccolissimo e localizzato aumento della temperatura inoltre si prevede che la WIMP possa produrre una ionizzazione e che è invece rilevabile attraverso una piccola variazione del potenziale elettrico al momento l'esperimento Edelweiss non ha ancora portato risultati l'esperimento diretto per il rilevamento diretto più importante al mondo oggi è l'esperimento Xenon 1T che ha luogo in Italia nei laboratori nazionali del Gran Sasso sotto 1400 metri di rocce utilizza materiali selezionati per ridurre al minimo la radioattività naturale dei materiali evitare contaminazione eccetera l'esperimento funziona in questo modo c'è un grosso contenitore in cui è presente Xenon Xenon liquido lo Xenon è un gas nobile insieme all'elio al neon eccetera è un gas nobile che non si lega con altri elementi chimici è stato Xenon perché fra il gas nobile è quello che ha un nucleo più grande e quindi che massimizza la sezione d'urto con le WIMP allora dicevo c'è questo contenitore con Xenon liquido poi abbiamo Xenon gassoso sulla superficie e sopra e sotto due matrici di fotomoltiplicatori che sono strumenti che servono per rilevare la luce anche una minima quantità di luce pensate che oggi la sensibilità è che un fotomoltiplicatore possa rilevare anche un singolo fotone di luce allora se normalmente le WIMP arrivano e attraversano semplicemente tutta la struttura di Xenon senza interagire con la materia attraversano gli spazi vuoti che dicevo ci sono all'interno degli atomi ma eventualmente una WIMP potrebbe urtare un nucleo atomico questo processo produce un rinculo del nucleo atomico dovuto appunto all'energia che la WIMP trasferisce al nucleo un rinculo che genera una radiazione elettromagnetica cioè della luce luce che viene poi rilevata dai fotomoltiplicatori posti sopra e sotto il rilevatore l'urto della WIMP dovrebbe generare secondo la teoria anche un elettrone elettrone che viene accelerato da questo forte campo elettrico che è posto sempre nell'apparato sperimentale quindi l'elettrone viene accelerato da questo campo elettrico e arriva nella zona di Xenogassoso qui l'elettrone interagisce con lo Xenogassoso e produce un secondo segnale luminoso una scintillazione un segnale luminoso che viene poi rilevato ancora dai fotomoltiplicatori quindi ci sono due segnali diversi il primo quello generato dal rinculo atomico il secondo ritardato generato dall'elettrone ecco poi ci sono tutti dei sistemi per discriminare un segnale dovuto all'interazione di una WIMP con altri segnali ad esempio di raggi gamma o decadimenti naturali radioattivi questo è l'apparato sperimentale qui vediamo il contenitore di Xeno e qui vediamo tutti gli strumenti di controllo quindi così riassumendo se non fosse per la materia oscura stelle galassie pianeti lo stesso genere umano non potrebbero esistere la materia di cui siamo fatti rappresenta solamente il 15% della massa dell'universo e addirittura siccome poi si è scoperto un'altra cosa di cui non parlo in questa ricerca dell'energia oscura la materia di cui siamo fatti rappresenta solo il 5% dell'energia totale dell'universo quindi noi non sappiamo praticamente nulla del 95% dell'universo non abbiamo idea di cosa sia l'energia oscura ma non ne ho parlato e al momento possiamo solo fare ipotesi sulla natura della materia oscura si pensa che il nostro corpo sia attraversato da svariati miliardi di particelle ogni secondo senza che noi ce ne rendiamo conto a questo punto la ricerca sulle WIMP non ha ancora portato risultati apprezzabili nonostante gli sforzi compiuti non resta che aspettare ma sappiamo che la fisica è piena di teorie che hanno dovuto aspettare decine o addirittura centinaia di anni prima di venire dimostrate un esempio l'ho già fatto è quello delle onde gravitazionali ipotizzate da Einstein nel 1915 scoperte nel 2015 ma ci sono altri esempi il neutrino fu ipotizzato da Paoli ed è stato poi rilevato solo 30 o 40 anni dopo ecco quindi attendiamo fiduciosi e vedremo gli sviluppi vi ringrazio spero che questa presentazione sia stata interessante se vi piace magari mettete un like grazie 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 grazie